Ciao Camille! Sì, Prof Max? Sono al campus! Come al campus? Sì, nell'armadio! Casa, nell'armadio! Che ti fa lì dentro? Portami fuori di qui! Non gioite per denti, perché tornerò! Prof Mini Hulk, ci mancherai! Ciao, ciao! Ragazzi, il nostro insegnante è davvero un po' strano! Votiamo chi è contro Mini Hulk! Forza, che aspettiamo? Io sono contro di lui! E anche io! Non penso che sia molto normale che un professore chieda soldi agli alunni, per questo sono contro Mini Hulk! Ma noi ci hanno fatto la pizza e siamo rimasti affamati! E mi ha preso il telefono! È troppo vivace, come insegnate! Ecco perché siamo contro Mini Hulk! Mi ha rubato anche la ragazza, ed è per questo che lo mandiamo al diavolo! Pagli e Molly, qual è la vostra opinione? A noi non importa! Ragazze, pensateci meglio, perché non votate contro di lui? Ok, ci penseremo! A me ho detto che non sono più la rappresentante del campus e questo non me lo scorderò! Per questo sono contro Mini Hulk! Bene, ora abbiamo una squadra! Ma devo pensare al piano adesso, ok ragazzi? Noi abbiamo deciso che ci occuperemo noi stessi di Mini Hulk, ok? Ma perché, Benz? Restiamo con i ragazzi, no? Ho detto no! Ce ne occuperemo noi stessi! Inoltre, devo parlargli di persona, ok? Benz! Andiamo, forza! Sapete ragazze, mi piace questo campus e probabilmente rimarrò! Molto bene! Se lei resta con noi, io continuerò ad essere la rappresentante! E il professore Mox? Dimenticatevi di lui! Non tornerà mai più, ok? Ragazze, mi fate oscillare più forte? Ah ah! Però Femini Hulk è così divertente! Lo so! Senti Laura, ho deciso che ti chiamerò la mia mandarina! E perché vuole chiamarmi così? Beh, a me piacciono i mandarini, sai? Oh, che carino! Nessuno mi ha chiamato così prima! E se lei si chiama così, io cosa sono? Beh, tu sarai una dolce arancia! Non è male come soprannome! Salve, profumini Hulk! Ciao, gemelle! Volete toccare i miei bicipiti, per caso? No! Abbiamo un'informazione importante per lei! Wow, amo le informazioni importanti! Siamo proprio che non le piacerà! I ragazzi vogliono cacciarla fuori dal campus! Che cosa? Mi caccerà dal campus? Sono impazziti! Già, e ci hanno forzato a schierarci contro di lei! Ma ci siamo rifiutate! Ben fatto, ragazze! Forza, dobbiamo unirci e combattere contro questi adolescenti! Mandarina, dolce arancia, seguitemi! Stanno arrivando! Prendete posto! Mandarina, dolce arancia, gemelle, prendete posto! Ok! Mandarina? Dolce aranciotta? Laura, ti ha chiamata Mandarina, per caso? Già! Che problema c'è? Al professore Mini Hulk piacciono i mandarini! Non ci posso credere! Ha rubato la mia ragazza e ora la chiama Mandarina! Non c'è niente di peggio, ok? Bene, la lezione è inizio! Chi può dirmi dove vive il canguro? Queste domande sono davvero stupide! I canguri si trovano per lo più in Australia! Questa è una risposta errata! Il canguro vive in uno zoo! L'ho visto io stesso quando sono andato allo zoo! Hai capito bene? Ma adesso la prossima domanda! Sentite, la terra è piatta o tonda? È noto anche ai bimbi! La terra è tonda come un pallone! E tu sei stupido! La terra è piatta e non tonda! Se fosse tonda, cadremo tutti! Hai capito bene? Hai raggiunto il voto più basso di tutti oggi, sai? Ehi, Benz! La terra è davvero piatta! Ma che ne so! Non ascoltarlo! Sapete cosa? Siete tutti stupidi! Sì! E adesso voglio sapere proprio chi è stato! Beh, se non volete ammetterlo, allora scoprirò io stesso chi è stato! Che piccolo cafone! Mi occuperò di te e non appena uscirò di qui! È una promessa! Devo prendere il telefono adesso! Devo chiamare i ragazzi! Mi faranno uscire di qui! Un giorno diventeremo anche noi, giocatori di basket! Sì, amico! Andremo ai campionati e li vinceremo proprio tutti! Sì! Per partecipare al campionato dovete prima imparare a giocare a basket! È tutta colpa tua, Benz! Vai da Camille e chiedi loro di accettarci nella loro squadra! Cosa io? Lascia che Duck vada a chiedere! No, non ci vado a chiedere! È stata una tua idea! Ora vai tu a chiedere, ok? Beh, allora andremo insieme! La squadra siamo noi, ok? Camille, ci abbiamo pensato! E dobbiamo unirci contro Mini Hulk! Sì, volevamo far parte della stessa squadra fin dall'inizio, sai? Ehi, basta piagnucolare e faccia, no? Ma non c'era bisogno di fingere di essere dei duri per stare con noi, no? Beh, io lo sapevo che sarebbero tornati, sì! Bene, ragazzi, siete con noi! Benvenuti nel team! Ve l'ho detto che non gli sarebbe dispiaciuto! Porca la miseriazza! Molto bene, perdenti! Andate via dal campo da basket proprio adesso, perché devo allenarmi, sapete? È così pazzo da chiamarci perdenti? Perché è un perdente! Beh, sai, lasseremo il campo da basket, ma solo se lancerai la palla nel canestro che è proprio lì sopra! Ma se non farei centro, sarei tu a lasciarlo! E smetterai di flirtare con la mia caramellozza! Lei non è una caramellozza, ma una mandarina, vero? Una mandarina? Cosa? In secondo luogo, lei è con me, non è vero? Sì! E terzo, datemi la palla, colpirò il canestro e ve ne andrete via di qui subito, è chiaro? Che insegnante vivace! Che insegnante vivace! Ehi, bello! Dai una palla a Mini Hulk, forza! Aha! Benz? Benz vuole incollare la palla! Stai zitto! Prendi la palla, Mini Hulk! Rimanete qui, ragazze! Torno subito! Mandarina! Dolce aranciotta! Questo tiro è per voi! Grazie, bravo Mini Hulk! Mi risponderete caro, sapete? Mandarina, dolce aranciotta, seguitemi! Ragazzi, aspettate! Il prof mi sta chiamando! Pronto, Camille? Sì, prof Max! Sono al campus! Come al campus? Sì, nell'armadio! Cosa? Nell'armadio? Che ci fa lì dentro? Portami subito fuori di qui! Ho capito! Ragazzi, qualcuno ha chiuso il prof Max nell'armadio! Prof Max è lì dentro? Sì, aprite la porta, forza! Prof Max, che ci fa lì dentro? Sa cosa sta succedendo qui nel campus? Abbiamo un nuovo professore! E non fa che prendere in giro tutti! Sì! Lo so, non è un insegnante! È un imbroglione! Non ci posso credere! Un imbroglione ha la mia ragazza! Chiamiamola polizia? Questo è quello che fanno di solito, l'ho visto nei film! Sentite, mi slegate prima! Allora dov'è? Spero che non sia ancora scappato dal campus! Mini Hulk è nei guai! È finito! Wow, farà molto molto caldo! Attenti! Mini Hulk sta arrivando! Siete finiti, perdenti! Avete fatto arrabbiare il profo Mini Hulk! Sentiamo chi vuole essere colpito per primo! Eccoti amico! Ti inseguiamo davvero da molto tempo! Sei in arresto! Hai il diritto di rimanere in silenzio! Ma ragazzi, questo è un errore! Io sono un insegnante! Deve avermi confuso con qualcun altro! Sì, certo, raccontala un altro! Non ti abbiamo confuso con nessuno! Sei solo un ingannatore! Ed anche un imbroglione! E va bene, caro fagiolino! Ma stanne certo, ci rincontreremo! Profo Mini Hulk, ci mancherò! Ciao, ciao! Forza, esci di qui! Non ci rivedremo mai e poi mai! Laura, c'è qualcosa che vuoi dirmi? Benzi, scusami! Non sapevo che Mini Hulk fosse un impostore! Non voglio più essere la rappresentante del campus! Voglio tornare ad essere la tua caramellina! Eh, va bene! Ti perdono! Ragazzi, mettete mi piace, iscrivetevi al canale! Non perdete i nuovi episodi! Attivate la campanella! E come sempre, ci vediamo! Ciao, 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 ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao, ciao!